Ciao Girulers! Questa giornata in e-bike la trascorreremo nelle langhe. Ci sono dei pro e dei contro ad andare in bici nelle langhe. La cosa bella è che puoi passare dentro al paesaggio, puoi proprio passare in mezzo alle vigne, sulle colline, e secondo me è il modo migliore per visitarle. Il contro è che o sei ben allenato, o sei molto ben allenato, o altrimenti puoi farlo con una delle nostre mountain bike a pedalata assistita. Noi ve ne mettiamo a disposizione una della vostra taglia, la troverete lì ad aspettarvi con la batteria bella carica, ad Alba, da dove partiremo, per poi raggiungere Grinzane, Saralunga, Marolo, Lamorra, una giornata in e-bike nelle langhe. Ricordatevi, il casco vi aspetto!